Buongiorno amici, questa mattina a ospite di Sempione News abbiamo Matteo Bottin, imprenditore legnanese. Ben arrivato Matteo. Grazie, buongiorno a tutti. Con Matteo vogliamo presentare questo progetto che ci dà a lui e in particolare capire meglio di cosa si tratta. Ci racconti il tuo progetto. Il mio progetto è nato una sera nel primo lockdown del 2020, marzo 2020, nel quale pensavo a come risolvere il problema per la questione bar, discoteche, quindi tutta la parte sociale, per evitare di togliere la mascherina bevendo comunque, rimanendo tutti in modo sociale. E così ho inventato questa valvolina che si applica su qualsiasi tipo di mascherina che, aprendosi, fa passare la cannuccia e poi una volta che hai finito di bere richiudi in modo che così il contagio diminuisce perché non si toglie la mascherina. Perfetto, il progetto come si chiama vorrei che lo dicessi tu anche perché è stato brevettato, quindi è stato registrato già a marzo 2020. Prego. Il progetto si chiama Safe Trick, siamo sui social che si chiama safetrick.mask. Perfetto. E invece entrando nel merito, un po' ci hai accennato tu come funziona, quindi c'è questa valvola che tu hai applicato nel tuo progetto e dopo si inserisce la cannuccia. In particolare, per quanto riguarda le applicazioni, tu a chi le hai immaginato? Chi sono i tuoi destinatari? Allora i miei destinatari sono gli utilizzatori finali, che sono i privati che vanno nei singoli bar, ma anche le industrie dove magari vogliono proteggere i loro dipendenti nel momento della sosta del break dove si prendono un bicchier d'acqua, vari drink. Perfetto sì, evitiamo di fare pubblicità, esatto. Benissimo, quindi la grande azienda in qualche modo e poi per esempio per anche enti, hai immaginato già, non so, le situazioni? Sì, stiamo studiando un progetto per migliorare sempre di più la nostra valvola e puntare a enti più grossi, come comuni, scuole, eccetera, però ovviamente bisogna fare tutte le cose… Esatto, con calma. Invece, una curiosità quasi personale, un progetto del genere chiaramente di un certo livello. Avete avuti già degli incontri, ammiccamenti con aziende interessate a distribuire questo prodotto? Sì, abbiamo già avuto vari incontri, siamo ancora in fase trattativa e tutto e piano piano risolveremo… Sì, ci approsseremo anche. È bello Matteo perché sei emozionato, si vede? È bella questa tua umanità che emerge perché poi, voglio dire, è bello anche essere se stessi. Penso che Matteo… Matteo, quant'anni hai Matteo? 23-24 a dicembre. Matteo, ha 24 anni, ha avuto un'idea geniale, quindi veramente hai tutto il diritto di essere emozionato, lo sono anche io per te. Chiudendo, diamo i riferimenti di nuovo, dove siamo? Social, sito, eventuale? Social, ci trovate su safetrick.mask o se no su Amazon c'è il prodotto dove si può comprare. Perfetto, noi vi ringraziamo, salutiamo il nostro ospite e in bocca al lupo, anzi vive il lupo e alla prossima. Grazie.